Nemmeno il tempo dei festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa che Little Service Pesaro si è scontrata contro la Camedosson nel recupero infrasettimanale venendo sconfitta in casa per 2-0. Quel cambio di passo necessario anche in campionato che era stato richiesto ai ragazzi da parte del presidente Pizza non ha visto subito i suoi frutti, forse dovuto anche agli sforzi prodotti tre giorni prima. Domani però alle 15 Little Service cercherà il riscatto, tornerà infatti nella capitale per riaffrontare l'Olympus Roma a sette giorni di distanza dalla finale vinta sul parchè di Genzano per 4-3 che ha consegnato di fatto il primo titolo della stagione ai Biancorossi. Una sfida quella di sabato che per le due formazioni significa tanto per il proseguo della stagione. Sarebbero tre punti importanti per Roma per restare al passo della capolista Napoli. Sarebbe una vittoria fondamentale per Little Service per allontanarsi dai play-out accorciando il gap da quelle momentaneamente in zona play-off. Il pala olgiata di Roma sarà dunque teatro di un match che vedrà scendere in campo da una parte che ha sete di vendetta e dall'altra che ha una voglia sfrenata di riscatto.